Iniziamo! Su! Ceritori, sposa, Mimbo e Lorella! Su! 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 E adesso è il turno dei ceritori e lo sposo! Polo e la cagliata! Su! 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 Polo e la cagliata! E adesso, signore e signori, è il turno dei testimoni! Cristian Francesca! Buonasera! Su! L'ingresso tra la gente! E adesso, signori, è il turno! Sorella, Valeria, Fabrizio, Francesca, su! Tutti iniziamo!